Il periodo più importante per il nostro lavoro è sicuramente il periodo della raccolta, in cui dopo quasi un anno di lavoro raccogliamo i frutti del nostro impegno e delle nostre speranze. È una stagione impegnativa e ti comporta tanto lavoro. Stare fermo con una macchina in due o tre giorni ti comporta sempre stress, nervosismo, un bel disguido. È molto importante avere delle macchine revisionate e controllate prima dell'inizio della campagna di raccolta. Il mio rapporto con i meccanici della New Holland è di un'ottima fiducia sui gamba. Da oltre 75 anni siamo nel settore delle macchine agricole e il nostro impegno continuo è quello di essere a fianco ai nostri clienti, di fornire il miglior prodotto, ma soprattutto di fornire il miglior servizio. Il nostro slogan è uno di famiglia. Uno di famiglia significa stare a fianco al cliente in qualsiasi momento e renderlo sereno nell'utilizzo della sua macchina. La Mietitrebbia è una macchina che viene utilizzata per un periodo ristretto e durante la campagna deve garantire la massima efficienza. Per cui ogni 600 ore procediamo in via preventiva alla manutenzione di queste macchine. Eseguiamo tutta una serie di controlli attraverso una checklist in maniera tale che il cliente sia consapevole che la sua macchina è stata controllata in tutti i punti secondo quelle che sono le indicazioni fornite al costruttore. Noi offriamo il nostro servizio di manutenzione di prestagionale ai nostri clienti disponibile sia nella nostra sede in officina oppure molto spesso sono io che mi reco dei nostri clienti. Per quanto riguarda la screnatura io controllo sempre spranch e battitore, contro battitore e poi andiamo sulla parte delle separazioni, la sostituzione dei cuscinetti e quant'altro. Uno degli aspetti che curiamo con maggiore attenzione è quello dell'utilizzo di ricambi originali. Da parte mia quando uso un pezzo di ricambio originale sono più tranquillo io e più tranquillo il cliente. Sono molto soddisfatto del servizio. Sono disponibili sette giorni su sette, di domenica e di sabato, ti rispondono H24. Noi praticamente stiamo tranquilli perché lavoriamo nel periodo della raccolta del grano sedendoci in questo salotto e stiamo rilassati e tranquilli. iscriviti al canale Grazie a tutti.